L'è tutto da rifare, diceva il grande Gino Bartali, a Lancia è proprio così. Con una mossa sorpresa e due candidati alle elezioni per la presidenza dell'Associazione Costruttori, Eliseo Iannini e Marino Serpetti, dopo le tensioni degli ultimi mesi e gli step ai probiviri, ritirano le candidature. Tutto da rifare quindi, proprio quando c'era la diffusa sensazione di una nuova data per le elezioni. E invece il presidente Adolfo Cicchetti ha annunciato il ritiro delle candidature. Sia Iannini che Serpetti fanno un passo indietro e ora si lavorerà, questo hanno detto, ad una candidatura unitaria. Cicchetti dal canto suo rimette a posto le cose e lancia un'associazione unite e operativa, ma esclude un suo mandato bis. È stato un passo indietro di grande senso di responsabilità da parte dei due candidati. Il confronto si era radicalizzato un po' troppo, sopra i livelli di guardia, rispetto a quella che è la visione associativa e il proprio modus operandi. I due candidati hanno deciso di fare un passo indietro e lavorare si stesso ad un nuovo percorso unitario. Non nascondo che mi è stato chiesto, però io ho già detto in tempi non sospetti che non avrei potuto e voluto continuare questo impegnativo compito. Lance ha tantissime persone che possono fare anche meglio di me. Non è una situazione di impasse, Lance continua a lavorare. Che messaggio però volete lanciare dopo questo periodo che è stato caratterizzato, è inutile nascondersi da un po' di tensioni, di veleni, da un'associazione costruttori che è uscita all'esterno un po' disunita. Qual è invece la situazione? Non l'abbiamo nascosto, l'ho detto ieri e lo ribadisco anche quest'oggi. L'immagine dell'associazione si è un po' sbiadita da questa vicenda, ma quelle che vengono evidenziate come spaccature e tensioni, secondo me possono essere ricondotte in una visione maggiormente compatta e credo che possano essere smussate nel momento in cui torneremo a parlare all'interno delle nostre mura. Si deve aspettare dunque una candidatura unitaria, ma per quanto riguarda le tempistiche? Io lavorerò e ho già sentito alcuni padrinobili, diciamo così, dell'associazione. È una larga base associativa elettorale che gradirebbero e vorrebbero che si lavorasse a un percorso unitario. Quello tenteremo di fare, quello è di cui abbiamo bisogno. I tempi saranno brevi, ma non troppo, perché ritengo che, come ho detto anche prima, abbiamo un po' bisogno di parlare e guardarci negli occhi.